Ascolti TV, non c'è storia tra i anni Il Patriarca a tutti i dati. I migliori anni di Carlo Conti, Rai 1, vincono nettamente la prima serata coinvolgendo oltre 3. 4 milioni di utenti, 22, 2% di share. Staccato di un milione di spettatori Il Patriarca, Canale 5, che ha conquistato 2. 4 milioni di persone, 14, 8%, facendo segnare un calo di oltre 200.000 utenti rispetto alla scorsa settimana. Bene Tachin La Vendetta, Italia 1, un quasi 1, 3 milioni di spettatori. Oltre la soglia del milione di utenti anche Quarto Grado, Rete 4, e Fratelli di Crozza, 9. Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti TV del Prime Time di venerdì 28 aprile 2023. Chiude avanti un altro, sempre lontano dai numeri dell'eredità. Come al solito il pomeriggio è dominato da terra amara uomini e donne che si confermano leader di fascia. Fiorello vola 18, 8%.